È stato attivato il numero unico per le emergenze sanitarie intraospedaliere, un numero nato per aumentare la sicurezza di tutti coloro che si trovano all'interno degli ospedali, pazienti, visitatori e operatori sanitari. Il numero conosciuto solo da chi opera all'interno delle strutture ospedaliere mette in moto la macchina delle emergenze nel caso che avvenga un evento traumatico come una caduta, un infarto, un ictus o un peggioramento clinico di chi è già ricoverato in ospedale. Grazie al numero interno la risposta sarà sempre più tempestiva. Noi abbiamo messo insieme le procedure che c'erano in tutti gli ospedali, abbiamo identificato un numero unico regionale, siamo la prima regione che lo ha fatto, proprio per attivare un team multidisciplinare che è preparato per organizzare la risposta a questi eventi che potrebbero verificarsi all'interno degli ospedali. È un elemento in più in sostanza di sicurezza per chi dentro gli ospedali si trova per una situazione casuale oppure per chi dentro gli ospedali è ricoverato. Un nuovo modello d'emergenza ha partito in tutti e 43 gli ospedali toscani dove sono stati creati team composti da professionisti in grado di garantire una risposta a queste emergenze H24. Il valore aggiunto è che il team dell'emergenza garantisce che il paziente venga preso in carico precocemente e venga indirizzato in tempi estremamente rapidi nel percorso di cura corretto, che può essere anche un percorso di rete, ovvero può essere anche che questo paziente possa condurre il suo iter diagnostico e terapeutico anche in altri ospedali, quindi è fortemente integrato anche con il sistema di emergenza territoriale. Nei prossimi mesi questo modello verrà monitorato e consolidato grazie ad un sistema informatizzato e alla formazione per gli operatori coinvolti.